Siamo con Federico Greco, presidente di Confimprese Taranto e vogliamo così oggi ricordare quelle che sono le attività che svolge l'organizzazione di categoria Confimprese con riferimento ai vari corsi che organizza. Perché chiaramente in un momento particolarissimo che stiamo vivendo, quello della pandemia che si aggiunge ovviamente già ad una crisi strutturale proprio dell'economia del Meridione e Tarantina in modo particolare, questi corsi che Confimprese realizza rappresentano degli strumenti proprio in vista, come prospettive per il futuro occupazionale. Sì, effettivamente tutti i corsi attivi sono dei corsi che comunque si rifanno alla sicurezza del lavoro. Quindi praticamente noi non facciamo altro che effettuare corsi per quanto riguarda tutti i macchinari che eventualmente rientrano nei processi produttivi, corsi di attrezzature che comunque vengono usate all'interno degli aziende, tipo il muletto, tipo la gru carata, tipo la gru semovente, la piattaforma aerea, i lavori in quota, i dipi di terza categoria, l'escavatore e così via. Quindi praticamente ciò che cerchiamo di inculcare è che i corsi innanzitutto si devono fare, al contrario di altri che rilasciano l'attestato e non... Lo scopo è quello di dare una preparazione, non di dare il pezzo di carta, per capirci. Lo scopo è quello di dare una preparazione quantomeno basilare. E quindi di conseguenza cerchiamo di inculcare l'idea di fare i corsi, seguire comunque la parte pratica e cercare comunque di memorizzare il più possibile affinché praticamente nel momento in cui si deve andare a usare il mezzo all'interno dell'azienda, comunque non si possono provocare danni né diretti né indiretti. Questo è essenzialmente il nostro obiettivo. Diciamo che al momento con l'attivazione dei corsi online abbiamo continuato a lavorare in formazione. Ovviamente ci hanno bloccato un pochettino le zone rosse e le zone arancioni per quanto riguarda la pratica da effettuare. Ma comunque insomma cerchiamo di essere il più possibile vicino ai discenti che sicuramente si iscrivono. o comunque cerchiamo di essere il più vicino possibile alle aziende che comunque devono sostenere i costi della sicurezza del lavoro.